Nell'ambito dell'Assemblea Nazionale di Anci che si è tenuta a Bari i giorni scorsi, il Comune della Spezia ha vinto questo premio Cresco Award per città sostenibili. Il progetto che ci ha fatto vincere questa onorificenza che ha premiato sei comuni in tutta Italia è stato il progetto Percorsi, un progetto di partecipazione in politiche giovanili incentrato sul tema della coprogettazione e in pratica percorsi di aiuto a dei giovani spezzini per premiare e creare delle start up e quindi coadiuvare il percorso di creazione di start up da idee innovative legate soprattutto alla valorizzazione del territorio da un punto di vista culturale e turistico. Percorsi tra i vari esiti a cui ha portato è stato quello di creare una pubblicazione che sottolinea la metodologia. In buona sostanza il progetto è caratterizzato da una riproducibilità anche in altre amministrazioni e questo a Bari è emerso anche nell'ambito del coordinamento di Anci Giovani che ha citato il progetto proprio come detentore di best practice da poter riproporre anche in altre amministrazioni. L'amministrazione ha iniziato nel 2011 un progetto di recupero dei terreni di proprietà comunale ai fini agricoli. Il progetto sta andando avanti, ci sono 16 utilizzatori e però l'amministrazione ha fatto questo progetto per dimostrare che si possono riutilizzare delle terre abbandonate a fini agricoli e che è molto produttivo farlo. Per cui questo progetto Terre in Colte è un progetto rivolto ai privati, quindi è stata premiata una piattaforma informatica in cui vengono inseriti tutti i proprietari che mettono a disposizione la loro terra a fini di coltivarla. Quindi è un progetto che si collega al progetto precedente di utilizzo dei luoghi e delle proprietà comunali e che coinvolge i privati. È importante questo riconoscimento perché lega il rapporto molto stretto tra il privato e il pubblico per il bene comune, per cui per la salvaguardia del nostro territorio affinché tutti i privati siano coinvolti in questo recupero delle terre.